Combo scan, guantoni No, guardate qui l'errore di stampa, che brutto Rokidi, per fortuna non è una carta che vale Altrimenti quello lì potrebbe essere un po' una rogna Shelmet Darumaka C'è l'arizzano! Oddio! Oddio, we did it! No, vabbè! Cosa? We did it, so serio! No, Vets! No! No, no, no! What? No, Vets! No! Cosa? Ho staccato tutte le cuffie! Cosa? 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 No, Vets! No! Merda, come l'ho... Ho staccato tutte le cuffie!